quindi da questa posizione spingo il che te per in avanti inspiro fuori l'aria inspiro quindi lavoro sulla mobilità delle vertebre toraciche fuori l'aria inspiro ancora una volta fuori l'aria inspiro ancora portando il kettlebell sulla mano sinistra iniziale non facciamo più del lavoro sulla mobilità dell'arachide cervicale ma faremo delle inclinazioni in questo caso verso sinistra anche qua 45 ripetizioni e poi 45 in direzione opposta porto il kettlebell avanti e da qui posso eseguire dei semplici stacchi iniziando a mobilizzare le anche ed estensioni flessioni ed estensioni deve essere sempre logicamente tutto controllato la flessione dell'anca con le curve dell'arrachide in estremo controllo fisiologiche flessione dell'anca estensione dell'anca da questa posizione possa riafferrare il kettlebell e fare degli affondi sagittali mi metto pure in posizione scendo e faccio delle leggere inclinazioni del busto in avanti con una leggera estensione leggera flessione leggera estensione porto il kettlebell in over head ed ecco e vado in estensione sulle vertebre lombari scendo eseguo tutto in switch quindi cambiando l'affondo da qui flessioni ed estensioni flessioni ed estensioni rimanendo in posizione che è del 9 red massima estensione